Ha un volto ed un nome il killer che lo scorso 23 agosto ha ucciso Francesco Calcagno, 58 anni, bracciante agricolo, in un fondo agricolo in contrata annunziata a Palagonia. Si tratta del 49enne Luigi Cassaro di Licata che vediamo nella foto. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Catania per identificarlo. La procura della Repubblica del Tribunale di Caltagirone aveva autorizzato la diffusione del video in cui si vede l'uomo armato di pistola inseguire la vittima e dopo averla ferita mortalmente lasciare il posto con passo veloce mentre il cane di casa si scansa per farlo passare. Calcagno nell'ottobre del 2016, secondo l'accusa per legittima difesa, uccise in un bar Marco Leonardo un consigliere comunale eletto in una lista civica, anche lui armato. Anche in quel caso i carabinieri ricostruirono la dinamica della sparatoria grazie ad un video. Il fermo di Cassaro è stato eseguito dai carabinieri del reparto operativo di Catania, della compagnia di Palagonia e della stazione di Riesi. Le indagini che hanno portato ad identificare il presunto killer sono il risultato di una capillare attività sviluppata dagli investigatori. Ad un certo punto la procura di Caltagirone ha chiesto la piena collaborazione da parte dei cittadini. E' stato infatti deciso di diffondere attraverso i mass media le fasi salienti dell'omicidio in modo da poter avere indizi utili per arrivare al nome e al cognome dell'assassino. Un altro indizio importante nelle mani degli incurenti è il cappello che il killer ha perso durante la sparatoria.